No vabbè, io l'ho detto ieri, io l'ho detto perché magari se te volete fare una partita tranquilla senza pensare a quello che devi dì No no ma non ti preoccupare che al massimo me... Qualcuno regista Ma non ti preoccupare perché al massimo c'è sempre l'opzione granata sacra Ma te dove abiti Ema? Mmm so della tina però sto parecchio a Norte quindi... Sei della tina? Sei della tina oh Vabbè, io sono in pianore di tutti quindi fottetesi Io da spaventare ma abitavo a Roma con Monte Rotondo So se c'hai presente Si, Monte Rotondo Quel monte che è un po' rotondo Un po' rotondo, bravo si si Quello lì Era meglio se non lo registravo Sempre ad Alessandri Ad Alessandri Sai quella zona del Piemonte con la nebbia Quella che sta in Iran Sì Tipica Alessandri dell'Iran no? Manco d'Egitto Oh dai, diamo un 3 Oh Taglile Questa è già vinta me lo sento già Si si Hashtag abbiamo vinto Hashtag abbiamo già perso Vabbè Classico Casetta E poi Verso Gjord No Gjord Severny Severny Sì Il posto più distante è Zarchi In alto sinistra nell'angolo Non credo ci sia tanta roba Alla mano Comunque se dovremmo buttare 3 Già E sti cazzo Qualcuno ti è buttato proprio la nanna proprio la eh Ma si dai Mi spaccamo Ecco la detta eh La detta Mi fa morco No mi sai che sono scesi giù a Sì So andare in quelli città Quindi? Che facciamo? Andiamo più al full Ma si dai Facciamo Io metto Ah ok L'avete già messo Forse ce l'ho messo io ma non ne sono sicuro Sì sì Vediamo quanto sto corto io Ce l'hai corto Ho piedi Eh sì Mi dispiace che tu ce l'abbia questi problemi Dietro non vedo nessuno quindi Se potremmo pure luttare le casette Se mi arrivo pure a Venezia Ma no Venezia non Io mi sono quasi preso una finestra in faccia tipo Che è sempre un bene Sì sì Ovvio Cioè se non ti prendi una finestra in faccia Il giorno d'oggi non sei nessuno eh Certo Oh uno cazzo Sei una merda Ma perché quando apro io le stanze non c'è mai un cazzo dentro? C'è uno zanio a livello 1 sull'ultimo piano del tetto se volete Sì sì Arrivo E ce n'è anche uno al primo piano del tetto Sì sì Lo vuoi lo zaino eh Max? No, tanto me lo prendo lì a Georgeville Sì sì Perché ci sono le robe di marca Quelle Sì sì Fargate Georgeville Perciò una marca di abbigliamento prima o poi Occhio sempre al fiume eh Eh Sto andato sul ponte eh Ah no T'avevo visto quelle ruote in girata dal lato sbagliato Eh Se ci colacca coi lì Eeeh la rietta Dietro c'è qualcuno? No eh Sì sì Mo' lo sviluppatore di sto gioco ha messo su Twitter L'immagine di due mappe nuove che mettono nel prossimo update Una ambientata nel deserto è troppo figa Spettacolo Cioè nel senso che questo Non hai più solo questa mappa ma ne hai altre due? Esatto Hanno detto pure che aggiungono gli aerei Sì Vabbè quindi c'è a sto punto c'è segona due mani che ti devo dire? Magazzini Ma sta macchina è spenta no? Sì ma poi è parcheggiata troppo bene Caschetto Ciao Scarelle C'è come un ladro fuora Fatelo dire Cioè Cioè nel metto di livello 1 dentro sto container se volete eh Se non volete cazzo Sto cazzo Uno scare Eeeh no scusami Eeeh uno Pfff Mo' lo dico eh Qualcuno che è pratico con quei salti va qua qua sopra a prendere il medikit grande per favore Ci vado io Perch'io non è che sia molto Per il parkour ecco Dillo a me che so appena cascato E beh Oh c'è pure una scar Eeeh combinazione ce l'avevo già Oh ho trovato una veste di livello 2 Fico Molto molto fico Oh di qua invece cosa c'è cosa c'è cosa c'è cosa c'è cosa c'è Uh il backpack di livello 2 Mi sto facendo tutto di livello 2 praticamente Mi manca il caschetto di livello 2 O un proiettile di livello 2 in testa che arriverà da qualcuno sicuramente Oh granata fermentazione Però non c'è un cazzo Io ora è uno zainetto se possibile No Io ora Ora Uh prendo anche la benzina eh Si che non ce n'abbiamo tanta mi sembra Benzina né Neh Via benzina né Faremo la macchina Ok Si Passiamo in full auto Eh Erassini S S più o meno Che cuore Con SKS Puoi anche dirlo culo eh non è che C'è uno zainetto qua dietro È mio Madonna Emacs non mi farei sti accidenti Cazzo ho sentito camminare e ti stavo già puntando Ma che direzione arrivava la macchina Da S più o meno Ma a me se ne sono andati Perché non avrei sentito che si avvenenavano Eh ma non hai detto che arrivino poi dopo eh Magari è parcheggiato distante apposta per non farsi sentire Poi arrivano Tipo Il fucile a cecchino lo vuoi? Che è il carco questo Si è quello Io ho lo scarrello Ma c'è l'SKS allora Eh Ma mi dici che l'SKS è così sull'unghia Ma per favore Figliatelo Ma non mi dica ste cose che mi emoziono Se lo chiamo so l'SKS che è un fucile a lungo raggio e il l'S12K funziona a mezzo metro No perché è mezzo metro scusami L'SKS è un'arma a lungo raggio eh L'SKS si L'S12K L'S12K Scusate L'S12K fu c'era pompa grazie al cazzo Vabbè Franciullo deciditi Tanto l'arma ce l'ho io in mano al massimo facciamo cambio dai non ti preoccupare Non sono uno che si formalizza su ste cose Stai a restringere l'aria Noi dove siamo? Fuori Siamo fuori ma è il primo CR che ci mette una vita a stringersi Infatti lo stiamo già con calma Io azzardo una cosa provo a salire su ste gru qua vedere se trovo qualcosa Ma no col cazzo stanno sparando Sparano? Si Non è che è la zona rossa no? No 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 sono spari di fucile questi Dove stanno più o meno? Eh mi sembra da sud ovest ovest ma no Ovest sud ovest ma no no Eccolo Ma non so che è Eccolo No Dov'è? Sta qua Dovrebbe stare a sinistra pure eh Verso ovest? Verso ovest Eh ok però va guardate qua Te sei morto secco proprio? Si ma fucile a pompa boom Ah fucile a pompa quindi va l'ordo Fanculo E' dove son morto io E' sta venendo verso di te E' tra i due container rossi con sopra la barra di ferro Morto Te o lui? Lui Ah ok Ho abbassato troppa la guardia Eh ma te l'ho detto che era per ehm Eeeh Ma no finiscila dai Tanto muore adesso Ha dato nel corpo mio ce l'avevo Si infatti io ce l'avevo l'S12K Ce l'avevo No l'SKS Sì ce l'avevo l'SKS con l'8x Allora Inchia vai da fare il tabacchio subito Poi a me lasciami morire Scopoli Sof Maledettissimo Bene Si camperavano nei container Ma da dove sono arrivati? Sono quelli della macchina Hanno fatto come ho detto io Sono arrivati quelli della macchina Hanno visto che c'eravano noi Hanno parcheggiato a distante E sono venuti in giù Ehm Noi Ghiacchieramo la gifra E ne eravamo tutti No io li sento Dei solito con le cuffie Ma anch'io li sento Ma ho sentito gli spari in lontananza Solo che poi hanno preso frate con un fucile a pompa Vabbè Paziente Fine primo pezzo Via